Sabato in piazza Garibaldi anche per i sindacati degli anziani. Fermiamo la deriva dei servizi per un nuovo modello Parma, questo lo slogan. L'amministrazione comunale di Parma continua nelle sue scelte contro gli anziani, dicono CGL e Cisle Will di categoria, decisioni assunte senza il confronto con i sindacati dei pensionati. L'amministrazione sta procedendo con pesanti interventi sull'organizzazione dei servizi, senza alcuna concertazione con le parti sociali. Il primo risultato negativo, secondo i sindacati, è stato quello di superare il tavolo tecnico distrettuale anziani, unica sede di confronto dei diversi attori. Non staremo a guardare la distruzione di un sistema che è patrimonio della città. Siamo in piazza e siamo anche in tanti, ma siamo soprattutto insieme ai bambini, insieme alle loro famiglie. Cioè qui c'è una richiesta che riguarda tutto il welfare, indistintamente. Certamente gli anziani hanno i loro problemi, qua si continua a tagliare servizi, si dice che non ci sono i soldi, però di fatto i cittadini di Parma, gli anziani e anche le loro famiglie, perché non hanno delle risposte adeguate. Quindi quando tu tagli un centro di urno, l'orario di apertura, metti in difficoltà il sistema organizzativo di una famiglia. Cioè quell'anziano lo devi comunque trovare. Quando tu non pensi di riorganizzare anche i servizi, dove tu consideri che gli anziani siano oggi portatori di handicap, no? Cioè, dici una cosa che è insostenibile, inaccettabile. Cioè la condizione dell'anziano è una condizione particolare, che può essere molto in difficoltà e anche meno in difficoltà. E' chiaro che è una situazione di grande fragilità. Questa è una città che fa fatica, fa fatica a... Questa amministrazione fa purtroppo fatica ad avere un'idea e soprattutto a difendere quel patrimonio che in tanti anni, con amministrazioni di colore diverso, hanno costruito.